...ripporta direttamente all'interno del santuario stesso il su ballo di ferrere che si esegue solo a tetti quindi è un ballo inimitabile anche per la storia che si porta a presso già dal suo inizio e il ballo dell'offerta, il giovedì della festa di San Sebastiano solitamente e lo si fa ancora oggi nonostante magari il problema economico non lo si mette come tanti 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 anni fa si fa un giro all'interno dell'enoperario per cercare l'offerta, sofferta all'interno dell'offerta vengono depositati dei soldi, in questo momento degli euro che poi saranno dati al suonatore non c'è nel suonatore o nel cachet un budget di spesa da parte del comitato no, vengono raccolti questi soldi così come lo si faceva in origine lo si fa ancora oggi su Barro e Ferrore è proprio il ballo dell'offerta ed è il primo che Giampaolo va adesso a consegnarci a tutti quanti noi se volete chi lo sa lo balli e poi ci regalerà insieme a questa coppia ma per tutti quanti noi uno ballitto Giampaolo Meis No, la danza No, la danza No, la danza Se volete ballatelo eh 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 Se volete ballatelo eh